Lo scoglio più grande è stato superato. Solo pochi giorni fa per l'Hockey Club Bolzano si è temuto il peggio, ma cantare vittoria è ancora presto. Ebbene sì, perché nonostante tutta la buona volontà che ieri sera hanno promesso esponenti della società, della tifoseria e il sindaco di Bolzano, Luigi Spagnoli, ora la sfida sarà trovare sponsor. Un incontro al Palahonda di Via Galvani, sede della società e nel quale grande assente è stato il presidente di Terracnol. Un incontro, dicevamo, per prendere atto della reale situazione in cui versa l'Hockey Club Bolzano e decidere, nel limite delle possibilità umane, come fare. Due, infatti, sono i milioni di euro o poco più da recuperare per consentire al Bolzano di poter disputare al meglio la prossima stagione in Ebel. Un incontro febbrile, quello di ieri sera, ma tutti concordi su un unico punto. Il Bolzano va salvato. Sicuramente c'è bisogno di tanto denaro e altrettanto sicuramente oggi il nostro tessuto economico cittadino e provinciale fa fatica a far venire fuori grosse cifre. E quindi bisogna guzzare l'ingegno. Abbiamo una tifoseria molto appassionata e 100.000 euro possono arrivare tutte insieme oppure possono anche arrivare 1.000 euro alla volta. Io credo che con ragazzi come questi ci sia la possibilità di attivare delle iniziative per far arrivare almeno i 1.000 euro alla volta, in modo da formare le 100.000 che servono, al 100.000, 200.000, 300.000 che servono per andare avanti la prossima stagione. Non è facile, ripeto, bisogna farsi venire in mente delle cose, però tutti insieme possiamo farcela. Ecco, secondo lei ci sono i margini per trattare anche con grandi sponsor? Il problema è dove trovarli i grandi sponsor. In questo momento nel nostro paese, nella nostra provincia, gente che abbia i soldi che escono dalle tasche non ce ne sono. Ovviamente anche uno che vuole cacciare 100.000, 200.000, 300.000 euro magari lo si trova, però vuole avere poi voce in capitolo su come questi euro vengono spesi. E allora c'è bisogno di fare un ragionamento anche come società su come impostare la governance del futuro. Io sono convinto che Dieter Knol, che è persona intelligente, ci sta pensando. Concorde con il sindaco Luigi Spagnoli, forse addirittura per la prima volta il neoconsigliere comunale di Casa Pound, Andrea Bonazza, grande tifoso dell'Hockey Club Bolzano, nonché esponente di punta della curva Nenemichi, che afferma al di là di maggioranze e opposizioni, al di là di destra e sinistra, quando bisogna far del bene per la nostra città, dobbiamo farlo tutti. L'Hockey Club Bolzano è da sempre un campo neutro, afferma Bonazza, sul quale lavorare per la convivenza tra i gruppi linguistici e per animare la vita sportiva della città. Benvenga dunque lottare insieme per il futuro dell'Hockey Club Bolzano, conclude Bonazza. Ma Andrea Bonazza non è l'unico esponente della curva Nenemichi a prendere posizione. Noi siamo venuti con lo stesso scopo per il Bolzano e perciò è già qualcosa. Che sia poi venuto il sindaco penso che non sia mai successo una cosa del genere. Speriamo che appunto questa riunione sia servita a qualcosa. Perché adesso non è soltanto il fatto di avere una squadra in tempi brevi, ma è il fatto di avere una squadra. Infatti questa è la cosa, è la squadra quella che manca, altre cose non ci sono, è la squadra quella che manca. E il nostro presidente qua deve essere chiaro. Da più parti critiche sono arrivate alla provincia per aver destinato ingenti risorse all'FC Sud Tirol, a discapito di sport definiti minori come l'Hockey, che però a paragone conquistano numericamente il pubblico maggiore. Da indiscrezioni pare che nelle prossime ore verrà richiesto un incontro da parte della curva con il presidente della provincia Arno Compaccer. Naturalmente sul tavolo la questione contributi. Sarà ma certo la mancanza nel corso dell'incontro di ieri sera dall'amministratore delegato dell'Hockey Club Bolzano di Tercnol non è stato certo sinonimo di interesse nel salvataggio della squadra. Infatti in un momento così difficile, in cui persone completamente strane o che dovrebbero esserlo ai problemi della società, si mettono in prima linea per salvarla, la sua mancanza fa riflettere e porre innumerevoli domande. Inutile insomma piangere merenda se poi si ignorano sforzi profusi da terze persone per salvare una fede sportiva. Comunque il Bolzano, almeno per adesso, è salvo, quanto meno a parole. Ora non resterà che attendere e sperare tutti riescano nell'impresa di trovare tutto il denaro necessario affinché il Bolzano possa disputare al meglio la prossima stagione. Naturalmente l'invito è rivolto anche a tutti gli imprenditori che volessero contribuire nell'impresa e chissà mai poter ancora una volta, magari il prossimo anno, esultare per una gloriosa vittoria e riportare quella Coppa Ebel a Bolzano. Inutile insomma piangere Inutile insomma piangere Inutile insomma piangere